Il dottore no No, in realtà è bellissimo Voi lo metto su internet e faccio vedere cosa fa Ci troviamo qui nel luogo degli scontri avvenuti nella quinta S di Bologna Il pubblico privato La scena sta degenerando Forse l'intervento delle forze dell'ordine messicano metterà fine a questo tormento Basta Merda Sono ucciso Oh, filmatutto, filmatutto Sì, si senti male, guarda che cosa stai facendo. Sucre, presi in mezzo. Alla, infatti. Mi ha fatto vedere. Mi metto un battaglio. Sucre, prendi la sedia. Mi dipende. Altro che male a salutare. Questo merita il Pulitzer, eh. Fa vedere il braccio, guarda. È rosso. Sono giusto. Ah, che no. Sta salendo. Oh, no, no. No, 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 male. Non puoi chiedere l'altra. Non puoi chiedere l'altra. Non puoi. Non lo fa mai scendere. Ah! È bello, Fusta. È un pazzarone. Unore pazza bellissimo. Ciao. Ciao. Grazie. Mi sono affumato il Pazzarone. E a voi. È un po' di scopo. È un po' di scopo. Sta a scopo il secondo il giorno. È un po' di scopo. Sta a scopo. Sta a scopo. Che c'è.